bello a tutti ragazzi da sapato qui su biotepe aquarium simulator ragazzi e benvenuti nel mio canale come sempre prima di iniziare vi invito a iscrivervi se non avete fatto e mettere un bel pollizioni su per supportare il canale ragazzi ma cosa vi sto dicendo tante cose vi ricordo ovviamente facciamo una bella intro completa nel mio canale trovate anche i link per instagram telegram qualsiasi altra cosa twitter ma non avendo la fibra purtroppo non posso ancora stremmare ragazzi questo gioco qua è in early e c'è su steam è una casa indipendente tedesca come potete sentire in sottofondo ci sono delle belle musiche classiche rilassanti e ne suppongo sia un bel gioco questo quale un simulatore di acquario io purtroppo non ho mai avuto un acquario mai mai ne avrò uno penso mai dire mai non mi intendo di pesci pesca mangimi biomi non so che pesci possono vivere fra le rocce chi pesci coralline pesci da fondo e pesci di bù cioè quindi facciamo diamo vedere subito i credits ragazzi boh play soda food ah ho capito non ci sono vabbè è in early access quindi qualcosa magari ok ragazzi facciamo subito start game e lui ci dice enter your name select a tank ovviamente il mio nome è sample 83 vi ricordo che non sono su xbox ma sono su pc su steam andiamogli ok e adesso praticamente dobbiamo dobbiamo scegliere gli scenari secondo me sono in ordine di difficoltà malawi tank sarà più difficile perché avrà tanti pesci tropicali che ne so l'amazon tank non è amazon quello di cosa ma l'amazon dell'amazzonia quindi foreste con le mangrovie bu poi c'è quello vuoto che scegliete voi tutto ma noi facciamo il tutorial ragazzi perché io non ho la più pari idea di come funzioni quindi selezioniamo tutorial tank e ci siamo gli diamo ok e possiamo iniziare tutorial si perfetto eccoci qua allora qua dice tutorial tank abbiamo 200 euro che install filter ok allora abbiamo anno 1 weekend weekend allora primo anno settimana 1 dei 1 questa è l'ora 9 45 ma non è vero è un'ora che si mette lui ok dobbiamo mettere il che che perché mi lampeggia questo ok allora parte 1 installiamo il filtro navigata tutto il tank bla 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 ok mettiamo il tank che bella grafica e mettiamo il filtro a devo trascinarlo ok lo metto la waldo abbiamo messo il filtro ok adesso dobbiamo attivare il filtro quindi usciamo e andiamo a eccolo qua filter ecco che bello ha proprio bisogno si può ragazzi ok filtro a posto sta funziona sentite il rumorino anche adesso che devo fa step insert background go back allora to the tank editor select nice background ok 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 ho capito go back non uscire allora e allora e allora caspita devo andare al background questo no era caspita di nel background bu do caspita di devo andare acqua sempre qua tank head al background e questo qua eccolo qua ok ne prendiamo questo qua oh la le rocce uh che bello abbiamo finito questa parte del tutorial perfetto tutorial parte 2 shopping tour ok e va a ok andiamo sul carrello andiamo su conchiglia e dice quale dobbiamo pigliare questa e uno si quante ne devo prendere non mi dici quante ne devo prendere a 5 ok facciamo buy caspita 660 no 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 well done ok adesso prendiamo adesso le piantine mettiamogli un po di verde quante devo prendere 5 anche queste caspiterina sto spendendo una fortuna oh cavolo ragazzi ho speso tantissimo e adesso prendiamo i pesci finalmente eccoli qua allora che pesciolino prendiamo prenderei questi qua si chiamano i neon mi pare questo che è bello quanti ne devo prendere 5 neon fish ah ecco ma neanche cioè neanche farla apposta ho scelto questi qua che sono l'unico che cardinal ah neon eh ma questo qua è cardinal io prenderei vabbè speriamo che me lo dia per buono eh no infatti non me lo da no eh neon quanti ne devo che cavolo però eh 5 neon paracadon paracadon o iper ok eh come caspiterina si chiamano queste para si un momento eccoli qua paracadon quanti ne devo prendere 5 ok ok abbiamo preso i paracadon wall down ragazzi adesso abbiamo filtro lo sfondo le alghe i sassi che è successo qua che devo pigliare ah il termostato buy a heater ok dobbiamo prendere un riscaldatore con almeno da 150 watt beh questo qua 150 watt lo compriamo ok abbiamo finito questa parte dottore quindi abbiamo filtri pesci eh poi abbiamo abbiamo filtri pesci alghe sassi eh lo sfondo ok parte che caspiterina devo fa andiamo qua ah ok questi qua sono i nostri pesci ma dove sono non li vedo mica io eh boh rocks ah adesso dobbiamo piazzarle eh si però 4 come li metto eh sono tante 5 eh place aquare stone signor tank ok dobbiamo si ma caspita sono un po' troppo grandi queste eh vabbè contenti loro non verrà un bel acquario eh ah le posso ruotare anche perfetto col tasto destro le ruotate anche quindi potrei oh che cavolo ok potrei metterne una ecco così e l'ultima qua nell'angolo ok waldo adesso dovrò mettere le alghe sicuro eh beh certo eh ma oh là là come caspita le metodi sono 5 ma ma non ci staranno mai vabbè contenti loro uno la metto qua dei filtri una qua dietro una qui è una qui ma ragazzi non è venuto male non è venuto male è carino basta mettere le cose un po' a caso ok dobbiamo mettere il termostato no il termostato questo è il riscaldatore dell'acqua perché ragazzi l'acqua è fredda quella che mettete activate heater ok attiviamo l'iter ah questo è il filtro questo qua ah questa è anche la luce scommetto si ok eh 25 gradi dobbiamo mettere qui dobbiamo settarlo 25 ragazzi chi ha passione degli acquari questo gioco è perfetto proprio ok 25 gradi settati ho messo on ok well done perfetto eh await condition ah ok dobbiamo aspettare che almeno l'acqua abbia però non me lo dice dov'è almeno 20 gradi well done ok mettiamo normale eh ok adesso possiamo mettere i pesci finalmente che abbiamo comprato beh vabbè siamo già qua ok uno e dov'è che bel rumore che bel effetto dell'acqua anche due ah ma sono minuscoli allora sì è certo devo prenderne di più ragazzi tre quattro e cinque well done ok ragazzi adesso bisogna vedere come saprà bisogna vedere come dargli da mangiare allora start ecco start stop feeding ok navigate drag 0,2 grammi mi raccomando eh ok eh però come faccio milligrammi ah eccolo qua 0,2 perfetto well done abbiamo finito il tutorial eccolo qua dobbiamo solo dargli da mangiare regolarmente ai nostri pesciolini vedete ah qua vi dice tutto quest complete tutorial quest sì sì ah praticamente qua vi dice info control move camera focus fixate ah ok vedete qua vi fa vedere vediamo un pesciolino se lo trovo eccolo qua camera focus eccolo qua il nostro pesciolino ragazzi guardate che bello e come è fatto bene vedete lui gira quindi ragazzi chi ha un acquario veramente eh sto vedendo col mouse e con le però non comunque voi potete assolutamente prendere background ground to state decoration vediamo un po' cosa c'è qualcosa wooden roots rocks tank container io adesso non so prenderei bu prendiamoci ancora un po' di pesci tanto abbiamo già finito il tutorial allora fish 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 ah non posso far più niente vabbè comunque ragazzi questo qua è il primo diciamo guardate che bello è fatto proprio bene eh tutti i suoni sono reali info control ok vedete vi dice tutto proprio anche cioè vi dice allora il nome è commerciale il nome in latino poi vi dice anche eh il dna bobo il rating del dna non so che cosa può essere il quanto sta bene il livello di stress è abbastanza stress la lunghezza peso 46 mg ragazzi il consumo dell'ossigeno la produzione di co2 ammonia production ammonia sarà eh sapete che i pesci sanno tipo di 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 ammoniaca diciamo è comunque diciamo che sembra tutto ok ah ok qua vi dice anche la descrizione che bello però vi spiega tutto nativi dalle acque chiare del sud america e bla 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 preferisce bla 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 ok delle inapposte per nascondersi bla 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 piazzare vedete scrive rocce driftwood bla 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 per fare il rifugio sono molto pacifici bla 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 ok può essere messo con altri non aggressivi tank mails pesci di acquario penso stress allora beh qua è sempre tutto a posto a lei è una buh cos'è maschio questo allora vabbè comunque vi dice un sacco di cose ragazzi è fatto proprio 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 è fatto bene mi piace un sacco ragazzi allora il video finisce qua come sempre vi invito a mettere mi piace ragazzi se vi è piaciuto questo video vi ricordo che il gioco è su steam come sempre quindi se questo video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace ragazzi scrive a cancro lo siete fatto e noi come sempre ci vediamo e al prossimo video ciao a tutti